ciao ciao a tutti belli brutti baffette del mese numero 104 numero 1 entry form per amici delle regioni figi siamo in un campo di sopravvivenza il sergente urla alle nuove rapide in questo corso imparerete a cavarla da soli questo inverno sarà molto freddo quindi vi dovete procurare molta legna e tutti allora a tagliare della gran legna poi uno fa una domanda signor sergente sarà un inverno molto freddo o molto freddo freddo il sergente imbarazzato non sapendo cosa dire va sopra la montagna del saggio del meteo il saggio guarda su guarda giù poi riflette e risponde sarà un inverno molto freddo freddo il sergente ritorna giù possa ragazzi serve ancora dell'alta legna questo inverno sarà molto freddo freddo e allora tutti a tagliare ancora della altra gran legna se vicino al solito tipo signor sergente ma è sicuro che sarà un inverno molto freddo freddo o un inverno molto freddo 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 il sergente non sapendo cosa dire ritorna dal vecchio saggio del meteo sulla montagna e il saggio guarda su guarda giù e poi riflette sarà un inverno molto freddo 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 e sergente ritorna giù falso ragazzi serve ancora dell'alta legna sarà un inverno molto freddo 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 e allora tutti a tagliare ancora dell'altra gran legna e il solito tipo ma signor sergente siamo proprio sicuri che farà molto freddo 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 o che sarà un inverno molto freddo 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 e allora sergente ritorna su dal saggio del vecchio della montagna il saggio guarda su guarda giù e poi riflette sarà un inverno molto freddo 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 il sergente lo guarda e incuriosito ma scusa ma tu come fai a capire se fa molto freddo ma guarda vedo sempre tanta gente che tutti i giorni taglia tanta 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 legna ciao 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 Grazie a tutti.